Siamo ad Antigua per la partenza della 600, bellissima regata, ci aspetta veramente una regata col coltello fra i denti, abbiamo i soliti nemici Powerplay e Argo che hanno dei team di altissimo livello, anche noi cerchiamo di difenderci, bisognerà vedere, alla fine si giocherà a questioni di minuti, è una regata di 600 miglia ma in genere siamo veramente molto attaccati fino all'ultimo. Quest'anno sembra che l'Aliseo sia abbastanza stabile per fortuna, ci sarà sicuramente un calo di vento per il passaggio in Guadaluppa dove c'è una montagna altissima e quindi dove sempre ci sono delle calme piatte e anche direi nell'ultima parte di regata sembra che le previsioni annunciano il vento che è in calo intorno ai dieci nodi che per noi inizia a essere un livello un po' critico, però insomma il morale è alto, Maserati è pronta, l'equipaggio è tonico e quindi come al solito faremo di tutto per fare bene. Grazie a tutti.